Musica Questo è un video delle guide da non seguire e come dal titolo vedrete che non è da seguire ma se volete tentare poi non date la colpa a me grazie Ciao a tutti ragazzi io sono EpiticalGems e questo è il primo video della serie guide da non seguire e voi mi chiederete cosa si fa un cd graffiato adesso guardate con il dentifricio acqua fresh il dentifricio che non muore mai vabbè col dentifricio e la risposta è semplice infatti con il dentifricio potrete pulire i vostri cd come questo un cd normale un cd da 700 megabyte contenente un film app mi pare un cartone anzi e vabbè e allora iniziamo allora come prima cosa prendete un po' di dentifricio ah e innanzitutto se non avete questo dentifricio qua quello proprio acqua fresh tipo protezione non funzionerà e potrete rovinare il vostro capolavoro infatti questo lo vendono anche questo dentifricio lo vendono anche nei negozi di elettronica come Mario World Open Games GameStop no sto scherzando e vabbè procediamo allora prendete un po' schiacciate e penso che questo dentifricio lo usiate per lavare i denti e lo schiacciate schiacciate e ne fate scendere un po' ecco non troppo perché se no potrete rovinare tutto quanto questo lo mettiamo qua e poi prendete il vostro bel ditino e spalmate spalmate tutto per bene una volta che avrete finito questo capolavoro eccolo qua e cercate di fare bene anche ai lati e anche verso il centro il centro ecco guardate così andate sotto l'acqua e lo risciacquate e una volta fatto ciò vedrete che il vostro cd sarà pulito ma se vedete che ho ancora diversi graffi come nel mio caso c'è un altro metodo quindi buttiamo il dentifricio e procediamo con l'altro metodo eccoci qua e voi direte ma cosa si fa una banana? e la cosa è semplice praticamente con questa banana potrete intanto la sbuccio io intanto che parlo potrete pulire il cd però non con tutta metà ve la dovrete mangiare ma se non seguite questo ultimo passaggio cioè quello di mangiarla potrebbe esserci delle varie potrebbe non funzionare quindi la tagliamo più o meno così e la mettiamo dentro al bicchiere tanto dovete schiacciarla bene e magari ci aggiungerete anche dell'acqua una volta fatto ciò anche con l'acqua aggiunta prendete un po' di di come si chiama? banana ecco com'è che si chiamava però il cd è meglio che lo mettete qua sopra e intanto l'altro pezzo lo mettete lì prendete un pezzo di banana e lo mettete al di sopra del cd e lo fate girare girare e poi girare così tenete fermo e fate girare il pezzo di banana e lo spiaccicate anche perché sennò non si attacca e lo attaccate tutto così guardate ecco mi sembra abbastanza fatto bene e adesso veniamo con l'ultimo passaggio cioè di quello di mangiarsi mangiarci la banana una volta mangiata la banana ricordatevi questo passaggio perché è essenziale e dovrete andare a pulire il cd ecco qua lo prendete con le vostre mani e lo andate a sciacquare nell'acqua ed ecco qua il cd pulito guardate che splendore guardate è pulitissimo si vede anche la mia macchina eccomi qua il riflesso vabbè e intanto ecco il cd e ecco quello che è rimasto della banana e vabbè ragazzi questo qui non è un video serio però avevo detto che lo facevo e ne farò senz'altro altri perché mi diverto a farli eccomi lì ciao ciao e e e lasciate un mi piace ricordatevi e iscrivetevi dite che ne pensate di questa nuova serie perché non non penso che ne esistano su youtube almeno sim e lì sì però uguali così no non penso e vabbè ragazzi ditemi cosa ne pensate ricordate di iscrivervi al canale e alla pagina facebook anzi di mettere un mi piace alla pagina facebook e vabbè ragazzi al prossimo video ciao